Buongiorno, benvenuti in questo nuovo wedding vlog in viaggio direzione location, ci vediamo tra un po'. Eccoci arrivati in location, questo posto è molto carino perché il giardino si sviluppa su diversi livelli, quindi è molto interessante da visitare e da girare, naturalmente adesso vi porterò con me. E soprattutto vi devo far vedere un albero che ho notato all'ingresso che ha come delle liane che scendono, quindi ha dei ramoscelli un po' più morbidi diciamo, che scendono dall'alto verso il basso, sono molto carini quindi adesso vi farò vedere. Grazie a tutti. 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 Grazie tuned. Schinari di burrata con vellutata di datterino, lo zafferano e frutti di mare. filetto di dentice aggrassato con purè di sedano rapa e fettuccine d'orto sorbetto di pesca con culi di fragole e menta e crumble al pistacchio ragazzi anche questo wedding vlog finisce qui come al solito vi mando un grossissimo bacio e noi ci rivediamo al prossimo vlog buonanotte 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 buonanotte